Se il governo pensa di utilizzare la sanità pubblica come bancomat per il governo, e questo è francamente inaccettabile, fare cassa sulla pelle dei malati e la stragrande maggioranza di coloro i quali usano queste prestazioni sanitarie, a mio avviso appropriate e utili, sono anziani, io credo che sia francamente inaccettabile. C'è una spesa sanitaria che va controllata? Probabilmente sì. C'è una soluzione? Assolutamente sì. La soluzione si chiama utilizzo dei costi standard.